ahahah siiii arrogo il papa ohhhh amore al papa amore al papa che trovi anche lui amore ovviamente non c'è il dio ganja? ragazzi cazzo mi butterei in mezzo al rogo veramente ma non farò pensiero Moby Dick amore non mi dire così che mi butto anch'io veramente mi avete Moby Dick porca puttana Moby Dick un po' di benza dai entro con la macchina veramente siiii arrogo gli affoco velocemente non è che ci vuole tanto anche ragazzi che potrebbero partire di erano ah ahahah bene ciao che vuol dire razzi? non lo so ah ecco davvero ahahahahah 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 lì 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 questeona ripentiname prima esatto che sia troppo tardi amazon ma quale è tardi super I romani non si mi 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 si si Grazie a tutti. Grazie a tutti.